Bersani, perché è sbagliato il presupposto. Bersani fa un discorso politico, però il governo non è un governo politico, questo è il limite dei tecnici. E tant'è vero che Tabacci, cosa dice? Beh, la linea ce la dà l'Europa, però non tutti i paesi sono uguali in Europa, non tutti hanno esigenze e l'Italia sconta il fatto di non avere un governo politico e di dover fare sempre quello che dice l'Europa, che non tiene conto delle diversità dei paesi.